La sindattilia La sindattilia è una fusione parziale o totale tra due o più dita della mano o del piede. Essa può essere cutanea se limitata alle sole parti molle o ossea se si stende allo scheletro. Ha una frequenza di 1 ogni 2.000-3.000 nascite con un rapporto tra i sessi quasi uguale, un rapporto di 3 a 2 tra maschi e femmine. La sindattilia può essere riscontrata in forma isolata o essere presente in diverse sindromi. Frequentemente viene riscontrata nella sindrome di Harper, di Carpenter, nell'ectrodattilia, nella sindrome di Poland, nella sindrome di Roberts. Occasionalmente invece nella parassia radiale e trombocitopinia, nella sindrome di Down, secondo o terzo dito dei piedi, nella sindrome di Tarr, nella Mechel-Gruber o in diverse trisomie. Il riconoscimento ecografico è pressoché impossibile e la terapia è chirurgica. Di abitudine viene eseguito l'intervento a 5-7 anni, mentre nelle forme più severe può essere eseguita anche nella prima infanzia. Grazie a tutti.